Con l'onorevole Iodice alla presentazione del libro di Veronica Sgueglia, il mio noi, onorevole, da sempre vicino alle iniziative culturali in città e regione Campania. Sono onorato di presenziare questo evento perché è il libro di una collega che mi ha molto incuriosito, perché sicuramente la trovo molto vicino a me come persona, sia dal punto di vista professionale che sociale, quindi ero curiosa di conoscere qual era il suo bagaglio di sentimenti, di emozioni che ha saputo trasmettere in questo libro, con un linguaggio molto semplice, un linguaggio accessibile, con il quale è riuscita a esprimere tutto l'universo dei sentimenti al femminile. Con Procida Capitale della Cultura la Campania è al centro di un progetto di rilancio culturale generale, quali le prossime iniziative della regione sul campo? Non tutti sanno e quando parlo di tutti parlo di risonanza nazionale, quali ingegni questa nostra regione possa avere, ingegni da tutti i punti di vista, in tutte le categorie, è una popolazione che negli anni ha dovuto combattere per andare avanti, ha dovuto superare gli ostacoli e tutto ciò ha fatto in modo che il loro ingegno diventasse sempre più acuto e questo ingegno viene espresso in tutte le arti, per cui sostengo la mia regione in tutte le sue espressioni culturali.